ciao a tutti amici e amiche creative bentornati sul mio canale oggi nuovo video dedicato allo scrapbooking e al card making ovvero la progettazione e realizzazione di biglietti in questo caso di biglietti d'auguri dedicati a questo periodo di san valentino quindi vi propongo quattro card un po eleganti anche un po shabby chic ma realizzate con comunissimi materiali che abbiamo già in casa infatti il riciclo creativo non può mai mancare perché riciclerò anche del cartone prima di iniziare però se siete nuovi del canale benvenuti io sono silvia e mi raccomando iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi tutti i miei nuovi tutorial sul fai da te e adesso vi lascio alla realizzazione dei miei quattro biglietti d'auguri ciao a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.